Sono Marzia Taruffi e vorrei presentarvi il mio ultimo libro, Dinda Corelmare, De Ferrari, editore. In una Sanremo, che mostra il suo volto migliore in 50 anni di storia, si affianca la vita di Leo, affermato imprenditore che sta vivendo un momento determinante della sua esistenza. Non gli bastano più i successi raggiunti con la grinna e vuole mettere ordine nel suo mondo, in tutto ciò che ha attorno. Per questo arriva l'impegno politico, ma deve confrontarsi con il passato e con i suoi fantasmi. La domanda è sempre la stessa, è possibile fuggire al proprio destino ed essere un guerriero? Deve far presto Leo, ha solo un attimo, un attimo per decidere, un attimo per combattere la battaglia perfetta, perché tutto avviene in un momento, nell'attimo in cui nel rosso del tramonto Dindaco era il mare.